Il redditometro contro l'evasione fiscale sembra finalmente pronto a decollare. Lo scopo di questo strumento voluto dal Governo è quello di scovare gli evasori incrociando il reddito dichiarato dei contribuenti con il loro tenore di vita analizzato attraverso 100 voci di spesa. Una serie di indicatori che possono rivelare chi vive al di sopra delle proprie possibilità e quindi può essere sospettato di avere guadagni in nero. Ma le polemiche non mancano, addirittura c'è chi parla di fisco che vuole terrorizzare i cittadini. Non la pensa così il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Piacenza, Carlo Eugenio Lopedote. Il redditometro è uno strumento molto valido per combattere l'evasione fiscale in Italia. Ricordiamoci che l'evasione fiscale in Italia è di ammontare circa 120-130 miliardi e quindi rappresenta un vero cancro della economia italiana. Il redditometro, se utilizzato in modo non repressivo, è uno strumento valido per combattere l'evasione fiscale. I contribuenti onesti continueranno a essere tranquilli? Sicuramente i contribuenti onesti devono essere tranquilli. Perché se uno dichiara 100 e ha speso in base a questi indici 150, deve dimostrare i 50 da dove provengono. E se questi 50 provengono da un disinvestimento immobiliare, quindi può dimostrare la differenza da dove proviene. Oppure da un'eredità, ha ereditato una certa somma di denaro. Quindi sicuramente devono stare tranquilli, non devono stare tranquilli veramente gli evasori. Perché è uno strumento che se è usato in modo giusto, effettivamente viene a stanare gli evasori fiscali.